Ok, parte 2 Vediamo un po' Che è? Oh, che è lo chiedi, va bene Ok, vai, 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 vai Madonna e Monta Rosa Che devo fare? Credo che il minaccio non c'è più Sono in Italia più bella Non c'è più 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 Questa è più Un portretto Non ti per me Grazie a tutti. 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 Che succede?